E ora io ho suggerito al sindaco di fare un'altra cosa, di fare la più bella sala di concerti di Europa. Siccome lo carico, ci sono sempre i grandi concerti classici, però vengono fatti sempre nelle palestre. Sono ogni tanto uno o due in una chiesa, tutti gli altri sono nelle palestre. E adesso facciamola noi qui a Bottecarasso, la grande sala per i concerti di musica classica. E così possiamo portare i concerti che vengono fatti a Locallo qui a Bottecarasso. Allora il sindaco mi dice, sì va bene, ma cosa costa una sala così? La sala a Monti Russo costava circa 2 milioni di euro. Questa sala costava 30 milioni di euro. Lui dice, ma tu sei marco? Dove diamo a prendere, ne abbiamo in cassa forse 5 o 10 mila, cosa fai a prendere 30 milioni di euro? E va bene, dico, se ci sono i soldi, va bene. Allora io avevo un grande studente, un magnifico studente argentino, con cui sono stato in Argentina e con lui ho fatto anche un piano di una cittadina in Argentina, un tipo bravissimo, bravo architetto, che lui quando fa il diploma da me, è il miglior studente, viene a dirmi che lui non vuole fare l'architetto. Dico, cosa vuoi fare? Volevo fare i soldi. Ma dico, vieni da me a chiedermi come fare i soldi. Vai da qualche, vuoi venire da me. Lui cosa ha fatto? È partito in Tanzania. È andato in Tanzania e è diventato un operario della Shell, della ditta di Petronio, della Shell. Dopo sei mesi diventa il grande direttore della Shell di Tanzania. In cinque anni diventa lui milionario facendo affari con i grandi scelti agami. Quindi cosa faccio? Io ho un colpo di telefono. Non che ragazzo ho bisogno di un po' di soldi. Sono tanti, sono 30 milioni rispetto a tutti quelli che hai fatto tutti. 30 milioni. Se mi puoi aiutare e voglio fare una sala di concerti, lui mi dice subito, quando li vuoi? Domani, quando vuoi? E ricevo i 30 milioni dal mio amico. Vado a l'azienda e poi dico, siamo a posto, abbiamo i soldi da qua realizzare la sala di concerti. I socialisti si mettono contro perché dicono che una sala di concerti di musica classica non è adatta agli operai perché gli operai possono sentire solo una fisarmonica. la musica classica non è fatta, è una cosa elitaria. Quindi il sindaco, che non ha mai deciso niente senza riuscire a convincere anche gli altri partiti, dice, dobbiamo aspettare finché io riesco a convincere i socialisti su questa operazione. Adesso si è ritirato, per cui poi il meglio è questa sala. Non si farà mai. Però i 30 milioni sono poveri. Non si farà mai.